Mani delicate, pelle di seta, profumo di azzalè con glicomanol, glicomanol, una carezza sulle vostre mani. Bravissima, perfetta, deliziosa, ha finito? Ma quello è finito? Io vengo a un concetto che parla chiara, questo concetto si dice che devo fare un'altra parte da protagonista. E quale? Come quale, quello è di califogo, o califogo, non vado a pingere, a pingere come si dice, i piedi è un po' tonno, contento?